Sì, non proprio parterebbe, dai, non c'è una roba, dai, ma la stessa. La pasta con i bomboloni, con la crema là dentro, ripieni, ah, facciamo un caffè e poi ce ne arriremo tutti quanti a casa. Dai, eh, ci sei in due, fermatevi, picchiate una ventina da pasta, è a posto, dai. Dai, 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 dai.